tempo fa avevo creato un'esca partendo da un semplicissimo ragù di gomma da 80 centesimi l'ho fatto per convincere ad attaccare anche le spigole più furbe ed il risultato è stato immediato questa bella spigola infatti non ha saputo resistere a quello che le sembrava un latterino e l'ho attaccato con decisione guardate che pesce